Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Parliamo di calcio giovanile. Verrà presentato questo pomeriggio, ma entrerà nel vivo da domani la ventunesima edizione del trofeo di Corpus Domini, memoria all'Antonio Rauso, trofeo Antonello Toti. Anche quest'anno le acli di Campobasso sono riuscite a coinvolgere formazioni blasonate di Serie A e Serie B. Alle porte il ventunesimo torneo di Corpus Domini, memoria al Rauso e da due anni a questa parte trofeo Toti per ricordare due pregnanti dirigenti delle acli, sicuramente due pilastri della storica società campobassana senza nulla togliere ai quadri attuali. La manifestazione prenderà il via nel prossimo fine settimana, le gare si dislocheranno sui campi dell'antistadio acli di Campobasso e sul sintetico di Mirabello. Non varia la struttura della competizione, parteciperanno otto squadre suddivise in due gironi da quattro presenti nel girone A, la Lazio, le Acli, il Bari e il Lanciano, girone B, Udinese, Campobasso, Pescara e rappresentativa Molise. Torneo riservato alla categoria giovanissimi. Nessuna novità a livello di formazioni partecipanti da registrare il ritorno in Molise dopo due anni della Lazio e dell'Udinese, società appartenenti alla massima serie che certamente contribuiranno a dare lustro a un torneo ormai consolidato anche a livello nazionale. Ci sono società di calcio della nostra penisola, infatti, che non si tirano mai indietro quando si tratta di prendere parte al Corpus Domini. L'Udinese, tra le altre cose, giunge in Molise anche grazie alla buona disponibilità offerta dall'ex Gloria Rosso Blu, Angelo Trevis, annattuale dirigente del settore giovanile dei Friulani. La finalissima del ventunesimo torneo di Corpus Domini è in programma alle ore 16.30 presso il nuovo sintetico Acli in contrada selvapiana a Campobasso. Lunedì pomeriggio presso i locali della FIGC Molise, a partire dalle 17, la FIGC presenterà in conferenza stampa la seconda edizione del Memorial Michele Scorrano che si svolgerà ad Ururi, paese di nascita dell'ex capitano Rosso Blu, il prossimo 9 giugno. Ed ora, come ogni venerdì, è arrivato il momento della rubrica Fuoricampo, curata da Sergio Genovese. Non bisogna avere orecchie tappate e occhi bendati come fanno in tanti giornalisti compreso. Pochi giorni fa, in un torneo amatoriale, parlo dell'amato mondo pallonaro, alcuni imbecilli nella periferia di Genova hanno sfondato la porta degli spogliatoi e hanno picchiato una ragazza che aveva il gravissimo ed imperdonabile torto di aver arbitrato male una partita. Lode al Corriere della Sera che ha dedicato una pagina intera per una simile vergogna. Vado oltre. Prima di fissare la data e l'ora di inizio della finale di Coppa Italia, tra la Lazio e la Roma, mancava poco che venissero interpellate Scotland Yard e la FBI. Duemila agenti in servizio anti-sommossa che non sono riusciti ad evitare scontri di incidenti nel post-partita. Quando un incontro diventa pieno di tensione, i giocatori della squadra uscita sconfitta, rinunciando a qualsiasi profilo di valore umano, per entrare nelle grazie di quella robusta percentuale di tifosi teppisti, fingono di essere sconvolti e si abbandonano in piante a dirotto, così dimostrano l'attaccamento alla maglia e scansano qualsiasi eventuale pericolo o al meglio qualsiasi contestazione. Ovviamente il tutto viene fatto rigorosamente in favore di telecamera. Potrei allungare ancora per qualche ora il racconto di un corollario disgustoso che è solo una sintesi di episodi accaduti negli ultimi giorni. Aggiungo qualcos'altro in salsa molisana per segnalarvi che in una partita di finale regionale dei campionati giovanili ripeto campionati giovanili una squadra dopo aver subito il terzo gol o il quarto, incoraggiata dai propri dirigenti abbandonava il campo distruggendo e disintegrando qualsiasi principio riferito al senso della vittoria o della sconfitta in ambito sportivo. Una vera apoteosi di inconsistenza morale, educativa e sociale. Del resto qualcosa di simile è accaduto nel calcio dei grandi. Tutti ricordano l'assenza del Napoli nella cerimonia di premiazione nello scorso anno in occasione della Supercoppa italiana. Ultima chiosa che riguarda il presunto acquirente del campo basso calcio, signor Di Palma. Sembra che abbia dirottato le sue attenzioni sul campo basso 1919. È come se un potenziale cliente per mesi frequentasse la concessionaria BMW, si informasse del prezzo e delle caratteristiche dell'auto e al momento di fare il contratto comunicasse al rivenditore di rinunciare all'acquisto perché interessato a prendere una 500. Forse sarebbe utile che qualche telecamera o qualche microfono facessero sentire meno forte il frastuono di una ribalta che, secondo un modestissimo e personalissimo parere, incoraggia a prendere tempo poiché più tempo passa e più si riesce a mantenere la scena. È stato rappresentato un condensato di scempiaggini pari solo a coloro che alzano la voce per la riapertura al traffico di piazza prefettura. Il destino delle vendite commerciali legato a 20 automobili parcheggiate. Ma si può capire di che cosa parliamo? Torna l'appuntamento con la giornata nazionale dello sport. Domenica a Termoli e Petacciato si svolgerà la decima edizione della manifestazione indetta dal CONI per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Termoli la manifestazione si svolgerà come da tradizione allo stadio Cannarsa dalle 9.30 alle 11.30. A Petacciato invece lo scenario sarà l'area antistante il municipio in Viale Pietravalle e le attività sportive si svolgeranno dalle 10 alle 12. Si potranno praticare tutte le discipline proposte dalle società sportive partecipanti calcio, basket, palla a volo atletica leggera, arti marziali tennis, scherma, tiro con l'arco pugilato e ginnastica. Calcio di Lega Pro sembra che la trattativa tra Giulio Di Palma e Ferruccio Capone sia effettivamente ad un punto di svolta. L'imprenditore Veneto nei prossimi giorni ufficializzerà l'acquisizione del 51% delle quote del nuovo Campobasso martedì l'appuntamento dal notaio Giordano. Capone Di Palma ultima puntata in onda forse martedì pomeriggio sugli schermi del notaio Giordano a Campobasso lasciamo in grassetto il forse tenuto conto di quante volte già si sarebbe dovuto e potuto siglare un matrimonio tanto agognato ma mai andato in porto la cronistoria delle ultime ore narra di un Di Palma in attesa di un colpo di telefono mai giunto tant'è che è stato il Vicentino a richiamare prima il notaio Giordano poi anche il commercialista Ianniro per chiedere lumi sugli ultimi sviluppi. Ricordiamo che l'intesa di Massima c'era ma l'aspetto ostativo per Di Palma poteva essere l'ingresso in società dell'italo-canadese Nick Giancola secondo la metà esatta delle quote del Campobasso. Sembra che mister Giancola si sia defilato nelle ultime ore per cui Di Palma ha preso le redini della situazione per stimolare l'altra parte quella che sembrava la più inerte a uscire da una situazione stagnante e pervenire alla concretezza degli atti legali. Dunque Capone e Di Palma martedì prossimo nel tardo pomeriggio presso gli studi del notaio Giordano raggiungeranno ufficialmente un accordo in base al quale l'imprenditore Vicentino acquisirà il 51% del club di Selvapiana Capone rimarrà padrone del 49. Di Palma giungerà nel capologo già lunedì mattina saranno giorni abbastanza intensi di quelli del Veneto nella nostra regione. Martedì mattina giorno del previsto accordo con Capone Di Palma si incontrerà nuovamente con Di Bartolomeo per discutere ancora della stesura definitiva di una convenzione per far scattare un ambizioso progetto di costruzione della cittadella dello sport moderna metodologia anche per sancire il rilancio dell'economia attraverso lo sport. Ieri Di Palma si è sentito anche con l'assessore allo sport Aldo De Beneditti se pare che il comune di Campobasso abbia offerto una disponibilità da secondare le idee dell'imprenditore di origini molisane. Il Veneto annuncia che una volta raggiunto l'accordo con Capone si limiterà a esternare delle dichiarazioni formali per poi entrare nella sostanza delle nuove situazioni la mattina seguente cioè mercoledì in una conferenza stampa che si dovrebbe tenere alle ore 10 e 30 presso la sala stampa di Contrada Selvapiana. Mercoledì pomeriggio Di Palma riguadagnerà la strada per Vicenza da lì scatteranno i primissimi contatti con tutti i partner proclamati sempre dal Vicentino ma mai pubblicizzati e che dovrebbero accostarsi concretamente alla causa rosso-blu. Di Palma abbozza anche discorsi relativi a questioni tecniche non entrando come giusto che sia nel dettaglio degli aspetti. Dalle parole del potenziale azionista di maggioranza si desume che con l'ingresso di una nuova proprietà si darebbe il via a una verifica dei quadri tecnici e dirigenziali e non sarebbe affatto scontata una riconferma di quelli attuali ma questo è un discorso troppo prematuro aspettiamo prima che il notaio Giordano sancisca ufficialmente l'accordo tra Capone e Di Palma mettendo così fine a una telenovela stile beautiful. Equitazione da oggi fino a domenica gli impianti della Scuderia del Sole di Isernia ospiteranno i campionati regionali di salto a ostacoli 2013 saranno otto le categorie in gara che vedranno confrontarsi l'uno contro l'altro i migliori binomi molisani in rappresentanza di tutti i circoli presenti sul territorio locale l'11 giugno scadono le iscrizioni per il diciannovesimo torneo Madonna del Carmine le gare avranno inizio il 16 giugno e si svolgeranno sul campo sintetico di Riccia la prima squadra classificata riceverà un premio di 1500 euro potismo giovedì prossimo la sala consigliare del comune di Venafro sarà il proscenio della presentazione della tredicesima edizione del trofeo di San Nicandro città di Venafro la gara nazionale di 9 chilometri si svolgerà domenica 9 giugno organizzata dalla SD Atletica Venafro a proposito del movimento potistico regionale Matteo Iacovelli presidente della Fidal Molise è pienamente soddisfatto dell'impegno delle tante società molisane C'è da dire che per quanto riguarda le società di Atletica sono veramente molto attive non solo a Campobasso ma anche a Isernia con la nuova Atletica Isernia a Termoli con la Runner Termoli quindi tutti diciamo si danno un gran da fare Io devo dire che non è una novità non è una novità per me perché da diversi anni mi occupo di Atletica Leggera non è una novità per gli addetti ai lavori ma non è una novità anche per i genitori dei ragazzi che poi vengono seguiti dai tecnici di tutte queste società non dimentichiamo la Virtus Campobasso l'Avis Campobasso l'Ama Molise Amatori non voglio togliere nulla anche a quelli che non riesco a menzionare perché ne sono davvero tante a Venafro a Isernia a Termoli ad Agnone a Castellino davvero è un numero notevole di società affidiate alla Fidal che garantiscono assistenza tecnica garantiscono anche una qualità enorme delle manifestazioni perché le manifestazioni Fidal hanno la caratteristica di essere manifestazioni perfettamente regolamentari perfettamente assicurate e che attribuiscono assegnano premi e titoli che sono riconosciuti dal CONO in questa stagione abbiamo parlato molto della crisi che ha colpito comunque lo sport del calcio del basket della pallavola e così via sembra in apparenza naturalmente che invece il movimento dell'atletica che è formato più che altro da una specie di famiglia diciamo così non abbia sentito troppo della crisi La crisi si sente anche nel nostro movimento però è bello il paragone è bello questa sintesi che ha voluto fare identificandoci con una famiglia è in effetti una grande famiglia si litiga tutti i giorni ma alla fine si litiga sempre per delle ragioni che sono sentite per dei problemi rispetto ai quali poi si trovano di comune accordo o perlomeno con una maggioranza nelle scelte le opportune soluzioni la crisi però si sente e le società soffrono molto questo ma con le manifestazioni promozionali con la partecipazione di tante persone si cerca soprattutto di avvicinare i ragazzi di avvicinare quanto più possibile i ragazzi all'atletica leggera allo sport e questa è la vera linfa quella che poi potrà portare altre risorse all'atletica leggera e a tutto quanto il movimento sportivo molisano calcio di serie D questo pomeriggio alle 18.30 il presidente del Termoli illustrerà la nuova iniziativa societaria socio-sostenitore nell'occasione il numero uno della società adriatica definirà anche gli obiettivi per la prossima stagione agonistica ore decisive a Boiano ieri il presidente ha incontrato alcuni imprenditori campani per trattare o la gestione totale della società o di una parte delle quote se questa trattativa non dovesse concretizzarsi ufficialmente il titolo sportivo del Boiano verrà rimesso nelle mani del sindaco in occasione della chiusura delle attività agonistiche del settore giovanile il Cus Molise organizzato per questo pomeriggio alle 18 al Pala Unimol la festa denominata Cus Junior Day tutto il Cus Molise giovanile con piccoli atleti famiglie e istruttori si ritroveranno a conclusione dell'anno agonistico per il calcio la stagione agonistica dell'Ermes Toro è stata sicuramente intensa nonostante i 38 punti conquistati durante il campionato la squadra rossonere è stata costretta a conquistare la permanenza in promozione con i play-out ne abbiamo parlato con Olindo Cianciullo Olindo Cianciullo è arrivata questa salvezza una salvezza sofferta insomma quest'anno è stata un'annata particolare avete fatto un grandissimo campionato come matricola avete conquistato tantissimi punti tantissime vittorie allo scadere eppure questi play-out insomma in molti pensavano che non si dovevano fare tu come la vedi questa regola va cambiata oppure no? vabbè la regola certamente 17 punti sono tantissimi sicuramente va vista da un altro punto di vista certo 17 no deve scendere ma io credo che anche 10 siano tanti perché anche perché tu sai benissimo che questa regola era stata finalizzata per evitare che le squadre potessero poi durante l'arco del campionato adagiarsi sulle partite però alla fine facendo così senza mettere il tetto massimo io posso anche arrivare penultimo giocarmi le partite con tranquillità risparmiare il giocatore e andarmi a fare i play-out insomma va pure va rivista per questo motivo che esperienza è stata questa Torese? beh è il terzo anno che sto qua è il primo anno di promozione per loro non per me io ne ho fatte tante però è stata una bellissima esperienza un bellissimo gruppo al di là del campionato dell'aspetto a sofferenza abbiamo abbiamo creato un gruppo di veramente bello tu mo' l'hai potuto vedere perché hai vissuto con noi tantissime partite quando abbiamo perso c'è stata sempre tranquillità siamo riusciti sempre a gestire la situazione è un gruppo nuovo adesso speriamo di poterlo riconfermare vediamo cosa succede l'anno prossimo ecco per concludere è proprio questo vediamo cosa succede l'anno prossimo questa è una bella realtà al di fuori dell'aspetto proprio calcistico anche sociale è un fenomeno importante questo ritorno perché coinvolge tante persone hai visto benissimo ci sono i ragazzi che vengono a tifare c'è la gente che viene a vedersi la partita ci segue è mai una critica certo la rabbia c'è però ci giustificano sempre ci danno sempre incitamento il quadrangolare a scopo benefico un pallone per amico quinto memorial Flavio Bruni si svolgerà venerdì prossimo all'antistadio Acli scenderanno in campo quattro formazioni Flavio's Friends Meteo Molise amici della polizia e una rappresentativa della nostra emittente il biglietto di ingresso è di 2 euro e l'incasso sarà devoluto all'istituto Mater Orfanorum di Cerce Maggiore il quadrangolare inizierà alle 16.30 nel weekend ultimi 90 minuti in prima e seconda categoria questo weekend anche il torneo di prima categoria va in archivio certo siamo a giugno ormai e diverse compagini sono ancora concentrate al massimo per l'obiettivo stagionale nei tre gironi in programma le finali playoff da questa stagione con gara unica in casa della compagine meglio classificata al termine del campionato in caso di parità al termine dei 90 di gioco si passerà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore patta sarà ancora la meglio piazzata in campionato a gioire una soluzione giusta quella adottata dal comitato regionale della Figi Cimolise per dare un premio a chi si è meglio comportato durante l'arco della stagione agonistica non solo una delle vincenti dei tre gironi potrà festeggiare il passaggio ufficiale nel torneo di promozione in virtù della classifica fire play in due parole delle tre vincenti di prima categoria playoff la compagine con la classifica migliore in coppa disciplina salirà matematicamente nel torneo di promozione ma le altre due sarebbero comunque le prime ad essere prese in considerazione per il ripescaggio da segnalare solo che negli ultimi anni sono salite stabilmente le vincenti di tutti i playoff per defizioni in eccellenza e promozione dunque posta in palio alta nel girone A domani a presenzano finale secca tra il rufre ed il pesche nel girone B domenica alle 16.30 il Querces Cerce Maggiore riceve in casa il calcio club Olympus secondo indiscrezioni proprio il team di Cerce Maggiore sarebbe quello con la miglior classifica fire play infine nel girone C domani all'antistadio Selvapiana di Campobasso alle 15 la sfida tra le due acli Campobasso contro Torre Magliano gare di ritorno invece nei play out girone A in campo Forulum contro Pizzone e Bagnolese Sant'Angiolese nel B Limosano Torella e nel C Santo Stefano contro Endas nel derby Campobassano e Rotello Angioina Colletorto tornando alla semifinale play off tra Divinus San Giacomo e Acli Torre Magliano ai nostri microfoni Ciappa e D'Ambrosio Nicola Ciappa centrocampista del Divinus San Giacomo è uscito da questa sconfitta ma la coltella bilancia probabilmente sia stata proprio la tua uscita probabilmente ha indebolito un po' la tua squadra questa è una cosa che rimarrà senza risposta è andata così loro diciamo la verità hanno meritato anche perché durante il campionato sugli scontri diretti hanno vinto entrambe sia dentro che fuori quindi bravi loro a crederci fino alla fine noi quando hanno sbagliato il primo rigore siamo andati in vantaggio noi diciamo che ci stavamo credendo un po' di più però poi il mio infortunio qualche altra defezione è andata così rimane comunque la considerazione del grandissimo torneo svolto sì sì questo sì questo sì perché veramente con i mezzi che abbiamo avuto quello che abbiamo fatto è stato una vittoria per noi come se avessimo vinto il campionato D'Ambrosio esterno dell'Acritorre Magliano una vittoria importante per voi ci avete creduto e questo alla fine è stato il premio più bello sudite il fallo ad inizio gara c'era il rigore sì penso il rigore sia netto ma al dia del fallo voglio fare i complimenti alla mia squadra anche perché non so se sapete abbiamo subito veramente un torto un furto con la ripetizione della gara con il campo marino che avevamo legittimamente vinto poi per un errore tecnico arbitrale ci hanno fatto ripetere la gara con una sconfitta e quella sconfitta ci ha consentito di non giocare la semifinale dei playoff in casa siamo venuti qui io penso che questo sia il primo passo per il coronamento di questo anno stupendo veramente ragazzi tutti quanti di Santa Croce penso sia un punto di partenza per fare un grande discorso di comprensore per i prossimi anni al di là di come andrà la finale la finale dei playoff fermo restando e poi ci dobbiamo siamo ancora in corso per la Molise Cup mercoledì ci sarà il ritorno dei quarti la gara tra Divinus San Giacomo e Acli Torre Magliano sarà trasmessa sul canale 112 di Telemolise Sport sia alle 16.30 che alle 20.30 calcio giovanile il cimitelle dopo domani ospiterà il secondo appuntamento del trittico dei tornei nazionali organizzati dalla scuola calcio della polisportiva agnonese per il quarto trofeo nazionale l'Agnone l'Atene del Sannio in campo sei squadre Virtus Vasto Sporting Roma difesa Grande Termoli Renato Curi Angolana Monte Cassino e naturalmente la polisportiva agnonese del presidente Fernando Sica la manifestazione è rivolta alla categoria allievi 96-97 si è concluso nei giorni scorsi l'ottavo corso per pizzaioli presso l'hotel Residence Le Cupolette Mirko Di Mario hai frequentato questo ottavo corso qui presso la scuola alberghiera presso l'hotel Residence Le Cupolette per te può essere uno sbocco imparare a fare il pizzaiolo si può essere uno sbocco è stata un'esperienza bellissima quattro mesi di intenso diciamo lavoro di come se fossi ritornato a scuola però è stato bello perché infine ti impari un'arte bellissima poi specialmente avere un maestro preparato ti dà una spinta in più Nicola e Annantuno tu quanto hai deciso di partecipare? Io sono venuto un po' in ritardo i primi di marzo sono arrivato ma quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a partecipare? Ma la cosa di vedere sempre cose nuove fare esperienze nuove magari imparare arti diverse anche per per una cultura personale insomma Qui hai imparato insomma questa sì assolutamente è un'arte che dal mio punto di vista bisogna sempre portarla avanti aggiornarla e in ogni caso i ringraziamenti non termineranno mai per il maestro Tony il maestro Stefano che ci hanno insegnato quest'arte si è creata sta famiglia insomma c'è bisogno di lavorare l'importante era avere questo pezzo di carta aver fatto il corso che è stata una cosa bellissima e sapere non è facile uno dice fare la pizza ma ci sono tante cose non si finisce mai di imparare io non me lo sarei mai aspettato perché non è solo fare ti dici acqua e farina invece non è vero ci sono tante tante cose da imparare e da sapere speriamo al più presto che si apra una porta per il futuro Nicola anche per te è importante il mondo del lavoro sì assolutamente vorrei sicuramente fare esperienza in questo settore magari spostarmi all'estero in un futuro prossimo spero tra poco tempo vorrei andare perché è una cosa che voglio proprio viaggiare fare esperienza e visitare altri stati portando avanti questa scuola questa scuola della pizzeria questa quest'arte è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio è un'esercizio